Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti buon inizio settimana soprattutto all'insegna della domanda perché a questo inizio settimana mi è piaciuto vi faccio vedere che cos'è che mi è piaciuto particolarmente tac eccolo qua se guardiamo il time frame settimanale che di solito vale la pena osservare appunto inizio settimana ma anche in maniera generale cioè quando si hanno dei dubbi sull'effettiva direzionalità del grafico sul quadro generale non solo orientato al rumore del breve termine a me il time frame settimanale toglie spesso molti dubbi e guardate oggi com'è bella la chiusura settimanale appena lasciata alle spalle perché abbiamo della domanda definita da questa shadow che è andata a pescare sotto i 30.000 la settimana scorsa come all'inizio del dump vedete si è definito scusate ho la tastiera dietro si è definito questo pool di domanda che è quello che da un punto di vista anche più di breve anche sul giornaliero è quello che tiene più botta se noi andiamo a vedere invece proprio il time frame settimanale il pool di domanda si estende va a finire fino anche ai 34.700 che di fatto è il supporto delineato per l'appunto dalla candela iniziale del dump che da lì in poi si è tenuto sempre valido il fatto che siamo andati a chiudere di sopra insomma fa vedere che la domanda c'è inoltre abbiamo addirittura un higher low dal punto di vista settimanale dal punto di vista della shadow anche quindi puntuale è un higher low puntuale non di chiusura ma tutto sommato che dire è un qualcosa che sta abbastanza in piedi per il momento questo ovviamente non toglie il bias bearish nel breve barra medio periodo che è ancora in vigore a causa della struttura complessiva e dobbiamo ancora scusate un attimo facciamo così tac e dobbiamo ancora andare a perdere come sapete bearish fino a prova contraria quello è un po il mantra e la prova contraria è sempre la ripresa di una struttura bullish ma di questo ne parliamo più tardi quando andiamo ad analizzare per bene il grafico adesso vi volevo dare soltanto una panoramica d'ingresso questo è l'aspetto che ha il grafico di bitcoin invece da un punto di vista giornaliero e vedete che c'è anche lì questa sorta di w stiamo attaccando adesso questo livello 35.500 l'origine iniziale del dump che se ce lo andiamo a riprendere io mi aspetto un bello squeeze e la possibilità di andare nuovamente ad attaccare i range high sui 40.000 forti di questo bottom che abbiamo costruito con abbastanza forza doppio minimo shadow che pesca dalla domanda insomma se riuscissimo davvero a squizzare un po di short andando a prendere un po di prezzi qua sopra sopra i 36.000 non sarebbe affatto un cattivo scenario stiamo a vedere ripeto il tutto senza voler fare il bull perché sul medio termine ahimè la struttura è ancora quella che è però sapete che le cose partono dal piccolo e poi si propagano quindi stiamo sempre a vedere che dire spero di trovarvi tutti bene nel frattempo per quanto riguarda le notizie che come al solito fanno parte del blocco iniziale delle nostre live il secondo blocco come ben sapete sono le vostre domande ve ne ho prese alcune notizie poi ultimamente mi piace andare a cercare un po dei pool strani delle nuove farm qualcosa che può essere interessante o alternativo in una situazione di mercato un po stagnante un po che va a ritroso ecco e quindi parliamo di un po di cose per chi ci sta guardando da youtube adesso faccio sempre questo appello ai posteri perché vedo che spesso mi commentate sotto al video di youtube dicendo ma come faccio a farti una domanda in diretta le dirette sono su twitch lunedì mercoledì e venerdì alle 18 e 30 circa col quarto d'ora a 10 minuti un quarto d'ora accademico ma giù di lì e se siete partecipi potete provare a fare domande io provo a rispondere a tutti ovviamente per motivi di tempo non ce la faccio ma voi non demordete non arrabbiatevi se non riesco a rispondervi non è perché lo faccio apposta che prendo domande a caso ok dalla chat e quindi magari non riesco a rispondervi una volta ma vi rispondo le volte dopo voi non mollate e lasciatemi anche un like che mi gasate ai massimi così spingiamo ancora il topic delle cripto anche in fase di bear market facciamo vedere che noi ci siamo allora parlando di news la notizia più importante da un punto di vista mediatico proprio di risonanza mediatica che ha avuto riguarda la migrazione dei miner cinesi lo shutdown dei miner cinesi guardate il grafico dell'ash rate fa paura è bruttissimo atroce dopo un uptrend pressoché continuo perché se noi guardiamo il grafico dell'ash rate è praticamente sempre in uptrend ma questo rispecchia il fatto che l'industria del mining è un'industria che evolve molto in fretta i chip vengono ottimizzati la potenza erogata da questi chip in termini proprio di hash al secondo aumenta in continuazione e questo porta di fatto a una crescita nel lungo periodo costante pressoché costante dell'ash rate complessivo di bitcoin stesso ciò che è accaduto in questi ultimi giorni è stato il il ban da parte del governo cinese verso le operazioni di mining all'interno del loro stato e noi sappiamo bene che in cina c'era una buona parte della fetta del mining di bitcoin ne abbiamo avuto la prova siamo arrivati da un sui 180 cos'è questo ex hash al secondo mi pare che sia l'unità di misura corretta al netto poi della appunto dell'ordine di grandezza fino ad arrivare a 58 60 quindi abbiamo perso più o meno due terzi della shrate complessivo arrivando a dei livelli da 2019 ecco per capirci è notevole come cosa e da qui sorgono molte domande perché la conseguenza diretta è il fatto che i blocchi vengono minati più lentamente c'è un tempo medio tra un blocco e quello successivo di bitcoin che è ai massimi da non so quanto te forse ai massimi storici addirittura una cosa pazzesca questa è la prima cosa chiaramente questa è una cosa temporanea perché ci sarà l'aggiustamento della difficoltà non mi ricordo tra quanto ci avevo guardato stamattina ma non ricordo esattamente tra quant'è e in sostanza sarà l'aggiustamento della difficoltà più grande della storia maggiore del 20 per cento in valore assoluto è più o meno meno 23 24 per cento stimato ai valori attuali un'altra domanda che mi è stata posta ed è una domanda intelligente è ma allora il network bitcoin sta diventando meno sicuro perché c'è meno hash power c'è me ci sono meno miner quindi a rischio la sicurezza di bitcoin allora la mia risposta per il momento è no perché comunque la sicurezza di bitcoin va ai livelli del 2020 supponiamo facendo una media mobile adesso questi sono i valori grezzi se andiamo a vedere i valori immediati sono un po diversi ovviamente questo è un valore ancora sovrastimato 100 x hash perché il downtrend sta continuando però ormai la la cina ce la siamo come si suol dire tolta un po dalle scatole e quindi adesso innanzitutto ci sarà un esodo del miner perché non è che adesso i miner spariscono e non arrivano più col fatto che c'è un hash power molto più basso sul network bitcoin ci sarà un nuovo incentivo per nuovi miner ok da altri stati chiaramente e soprattutto utilizzare energie più pulite perché la cina sappiamo bene che era famosa per essere quello stato che utilizzava delle fonti energetiche tra le più sporche e ad alto impatto ambientale quindi io reputo il fatto che la cina è stata estromessa dal mining dall'industria del mining una cosa tutto sommato positiva per il lungo periodo magari sul breve ci sono un po di disservizi la block time lungo si abbasserà la difficoltà e quindi qualcuno dice la sicurezza è decrementata è vero è decrementato in valore assoluto ma non è che bitcoin è a rischio di un attacco a 51 per cento perché comunque rimane estremamente difficile non è che nel 2019 2020 ne abbiamo visti tanti ok eppure l'hash power era quello c'è da aggiustarlo in percentuale come fosse una sorta di inflazione perché nel mentre si sono potenziati i chip è vero quindi non è proprio esattamente giusto dire è come tornare nel 2019 2020 però più o meno si non è che c'è tutta quella differenza quindi non bisogna preoccuparsi lato sicurezza poi ripeto si abbassa la difficoltà arriveranno nuovi miner incentivati dalla ricompensa che potranno avere ora che i due terzi del network non ci sono più focalizzatevi su questa cosa cioè molti nuovi miner verranno introdotti nel mercato magari utilizzeranno energie pulite quindi ripeto è un ciclo che porta sicuramente bitcoin essere resiliente come al solito perché non lo scuote niente non lo smuove niente non credo che sarà questo a creargli problemi è fatto apposta per sopravvivere a queste situazioni a qualsiasi situazione una volta superato il disservizio iniziale quindi nessun tipo di timore sulla sicurezza e sul network di bitcoin sono curioso di vedere appunto dove si sposterà il mining perché adesso ci sono un po di spedizioni in giro per il mondo dei mining rig cinesi delle farm e quant'altro vediamo ok stiamo a vedere dove si localizzeranno poi e tra l'altro curioso il fatto che nonostante questo esodo di massa dei miner e questo dump della shrate il prezzo non ne sta risentendo più di tanto cioè si è in una struttura bearish e quant'altro però non è che stanno non c'è panico ecco mi sembra che su quello non ci sia panico sul mercato a proposito di panico prima di andare avanti allora aspettate che apro un attimino twitter tac eccoci allora apro un attimo il mio profilo perché l'avevo rituitato mi ricordo e ecco qua un'altra cosa mi è venuto in mente parlando di panico perché si è creato molto panico intorno alla notizia di binance che sospende alcuni servizi in canada in ontario e in uk e non so perché tutto questo panico in cui dicevano io ritiro tutto che chiude mica chiude cosa volete che chiuda binance ma secondo voi semplicemente sono le regolamentazioni che variano anche in fretta nel tempo la uk è uno di quegli stati che si sta imponendo di più come regolamentazioni avete visto un po di tempo fa che ha assolutamente impedito le gli exchange vari a fornire servizi di strumenti derivati sulle cripto al trader retail e questa è una parte di una campagna comunque volta a centralizzare secondo me la possibilità di offrire determinati servizi a determinati attori e istituzioni sicuramente interesse loro detto questo binance non è che adesso bo basta è finita è nel panico chissà cosa succede semplicemente per adesso non offrirà i servizi allo uk e al canada ontario quello che ho visto che entro fine 2021 discontinuerà i servizi appunto in ontario per quanto riguarda la uk se voi andate a cercare binance.uk vedete che già è in costruzione coming soon il ramo uk di binance come è successo in america vi ricordate che i clienti americani non potevano usare binance perché in america ancora prima della uk ha fatto delle normative ben definite sulle cripto cos'è successo è successo che è nato binance.us e adesso è pienamente operativo e attivo in america secondo le loro regolamentazioni quindi questo è quello che succede binance.com è un po il mare magnum la loro piattaforma per tutti qualora ci saranno alcuni stati che vanno a fare delle regolamentazioni specifiche e richiedono di essere complianti non potranno accedere a binance.com ma verrà creato il loro ramo dedicato con i servizi complianti alle normative dello stato in questione tutto lì quindi niente panico niente timore di indagini strane perché comunque sicuramente binance avrà interesse a continuare a offrire servizi in tutti i modi in cui ha sempre fatto e in tutti anche i paesi in cui l'ha fatto poi parliamo adesso di farm dunque qua mi sono fatto alcune domande sul ve la faccio vedere non ve la faccio vedere alla fine ho detto ma sì buttiamoci un occhio allora ci sono due pool che con qui sto giocando appartenenti a quelle ad alto rischio quindi triangoli gialli che lampeggiano attenzione alto rischio perché sono pool nuove ok quindi sono pool adesso se la carica ve la faccio anche magari vedere vediamo se è metamask che mi sta sclerando simatic in questo periodo cioè il network polygon è abbastanza congestionato e non so se ci avete fatto caso ma spesso e volentieri c'è da fare dei refresh chiudi riapri riavvia metamask non so se è capitato anche a voi vabbè comunque ci sono due pool con cui sto giocando la prima è questa che è pool liquidity che è un fork di liquidity che è su ethereum ripeto se me la carica magari ve la faccio anche vedere allora aspettate che provo a eccoci vediamo se ce la facciamo annulla annulla tac matic network riproviamoci ce la faremo eh io io ci credo non molliamo e dunque questo in sostanza è un modello che crea una stable coin legata a un collaterale parzialmente volatile cioè è come se fosse un modello tipo dai per capirci con i debiti che si aprono in matic anziché nei collaterali utilizzati in dai quindi io vado a depositare una certa quantità di matic creo la stable coin e c'è quegli incentivi di arbitraggio perché se io brucio la stable coin ricevo indietro il suo controvalore in matic un dollaro in matic e quindi se il valore aumenta c'è l'incentivo a fare il burn per avere di più e vendere la mercato tutto quel discorso lì e viceversa se si abbassa il valore c'è l'incentivo a fare la direzione opposta e quindi mantiene il peg per questo motivo ok ce l'abbiamo fatta e dunque in sostanza c'è questo trove che è il corrispondente del cdp appunto di maker dao e è possibile utilizzare i matic ripeto per fare il mining di questi p usd e poi i p usd li si può andare a depositare nella stability pool che è un pool che utilizzano proprio come riserva loro per arginare la volatilità diciamo con un apr al momento del 241 per cento che non credo durerà a lungo perché è già raddoppiato il il tvl vedo poi ci sono anche dei farm loro hanno due coin il p usd che è la loro stable coin il p y q che è invece il governance token che è quello da farm and dump diciamo io personalmente non l'orderai se poi uno cerca l'estremo dal punto di vista del rischio rendimento e volatilità qua ovviamente c'è la possibilità però altrimenti c'è p usd che è la stable coin questo è il farm è un pool se non erro su sushi swap che c'è e c'è la possibilità appunto o di farlo su sushi swap o altrimenti dalla stability pool direttamente si ricevono le ricompense in nel token di governance p y q esatto e quindi questa è una cosa ripeto rischio abbastanza alto perché è nuovo è un protocollo nuovo è un fork di liquidi che esiste da da tanto tempo quindi non è del tutto una novità però ci hanno aggiunto dei nuovi pezzi di codice negli smart contract se non erro erano stavano cercando l'audit da parte di certi che non ho non ricordo se l'han finito no forse sì forse addirittura già finito però ripeto bisogna sempre prenderli con le pinze perché è una è una cosa abbastanza nuova poi tutto ciò che ha su polygon in generale è più nuovo e un po più rischioso c'è questo retrogusto qui il funzionamento è questo ripeto io ve la mostro e poi fateci quello che volete ma studiate prima e mi raccomando niente eipin questa è la regola numero uno a proposito di eip poi c'è una cosa ancora più folle che questa assolutamente non va fatta cioè io la sto facendo per gioco ma non fatela proprio perché è una pazzia totale c'è un altro pool che adesso ve lo tiro fuori come si chiama non mi ricordo neanche più se l'avevo visto su bifida rifacciamo il giro che ho fatto io quando ho detto devo assolutamente giocarci con questo e fa sempre parte della questa è ancora più ad alto rischio cioè se prima era ad alto rischio questo è gambling puro ok stiamo siamo esattamente nel gambling allora bifi io però ti volevo su polygon perché mi vai su bsc dai fai bravo bifi niente mi va su bsc ok allora andiamo su bsc e poi switchiamo su polygon allora eccoci qua polygon perché non mi ricordo più il nome era tipo pap è polypoop è quello lì ma adesso vi faccio morire da ridere con sta cosa allora torniamo su polygon benissimo eccoci qua eccolo qui polypoop andiamo su polypoop polypoop finance che tra le cose di rag doc non so se avete visto dal punto di vista di audit ha fatto il kyc con rag doc il che vuol dire che è verificato chi c'è dietro quanto meno non dovrebbe essere un rag pool non escludo il rischio è perché il rischio c'è sempre però dovrebbe essere abbastanza legit come si suol dire allora cos'è sta cosa è un fork di goose finance che già era una roba di folle e infatti io non faccio né layered farming né robe assurde di questo tipo ma ho visto questo pool adesso ve lo mostro vediamo se c'è ancora adesso mi ridere potete prendermi in giro e ve lo dico me lo merito anche allora metti in staking polydoge che già lì siamo alla follia come volatilità e guadagni poop con un rendimento del 1070% di apr il che equivale al 287% al giorno anche questo è già diminuito purtroppo non ve lo dovrei dire perché sennò più gente entra e peggio è però scherzi a parte è gambling gambling è una scommessa quindi sappiate che mettere in staking polydoge che è una cosa che va a casa si muove completamente a caso per essere droppati poop che è un'altra cosa che va completamente a caso è puro gambling però insomma così perché no nel senso è un'opportunità volendo che se implementata nel modo giusto con il giusto risk management può avere un senso io mi sono riproposto di condividervele anche queste assurdità perché ripeto se uno vuol fare gambling è giusto che lo possa fare l'importante è che lo circoscriva mi raccomando fate i bravi poi che altro c'era basta in realtà ah no Elon Musk farà una discussione con Jack il fondatore il CEO di twitter in un evento il 21 luglio eccolo qua che si terrà online con altri speaker che arrivano dal mondo cripto come Kathy Wood di Ark Invest il CEO di Blockstream Adam Beck e un ex CIA un ex direttore CIA potrà essere interessante sono curioso di vedere soprattutto che sparate fa Elon Musk stiamo a vedere e basta allora io torno da voi vediamo spero che non siate già andati all in su poop finance o quella roba che è ma che siate ancora qui che così ci facciamo due belle chiacchierate allora 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 partiamo dall'alto ciao Luca hai visto qualcosa di popsicle purtroppo non ho fatto in tempo mi dispiace mia colpa ma me lo sono segnato nei compiti a casa quindi me lo guarderò poi 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 ciao Luca scusa se forse l'hai già detto ma dove lo compri il DPI dopo questo calo mi sembra molto interessante allora su index coop e cioè in realtà io l'ho acquisto su index coop direttamente perché adesso tra l'altro aspettate vediamo come etherscan gas tracker vediamo com'è la è abbassato abbastanza il costo del gas io mi ricordo che l'ultimo acquisto l'ho fatto che era 10 guai il medio e ho pagato e era assurdo uno swap l'ho pagato tipo 2 dollari e quello ho detto wow ethereum che si può ancora usare non mi sembra vero e comunque dicevo index coop da qua tra l'altro visto che hanno introdotto la possibilità di acquistarlo direttamente in fiat con bonifico non so quali sono le commissioni a quindi magari a una sola gigantesca però c'è buy with cash io mi immagino che ci sarà un po di ricarico quindi vedete voi altrimenti qua c'è direttamente direttamente l'interfaccia da uniswap se volete possiamo anche allora mi ricollego ethereum così facciamo un attimino una guardatina ai costi delle fee giusto per essere sul pezzissimo facciamo una simulazione 001 ether network fee 0,0073 il che equivale a ve lo dico subito col nostro amico metamask 15 dollari e beh è un po aumentata si è un po impipatica 15 dollari è già tanto però questo è ciò che offre la casa altrimenti c'è su kucoin ma ho visto che c'è una liquidità insulsa e quindi c'è uno spread gigante non conviene poi torno da voi eccoci qua ciao luca alcuni tuoi colleghi scillano la piattaforma di cefai yield up la conosci per caso una tua opinione non la conosco sai dovrei informarmi un attimino io sono molto 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 selettivo sulle cefai e quindi a meno che una non passi tutti i check che ho in mente non la considero neanche però ci andrò a dare un'occhiata ciao luca secondo te se un'azienda reale proponesse un token con il funzionamento da shitcoin per fare crowdfunding cosa hai in mente eh cosa hai in mente di la verità di la verità per fare crowdfunding e rimettesse una percentuale degli utili nella liquidità per i suoi azionisti non potrebbe funzionare come idea ma sì cioè nel senso non è però la tokenomics da shitcoin perché quella lì è ogni transazione vai a fare delle robe giustificate più o meno da altre cose e che ti devo dire cioè sì nel senso ha senso fare una cosa così però ripeto non ci vogliono quelle tokenomics se uno vuole ricompensare i token holder a fine anno con una parte dell'utile farà il suo bilancio pubblicherà in qualche modo l'utile e andrà a fare una un airdrop un qualcosa però magari di un token diverso altrimenti il token diventa più diluito cioè c'è da tenere in mente alcune cose non non di seconda mano ecco bisogna pensarci poi 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 ciao Luca ma cosa sta succedendo negli UK esatto infatti è il discorso che abbiamo detto prima l'FCA negli UK sugli strumenti derivati delle cripto è molto molto poco permissiva e io credo che sia per interessi personali nel senso vogliono un po' centralizzare i servizi cripto in mano ad alcuni istituzionali o ad alcuni che magari cooperano con istituzioni io l'ho vista così ecco poi ciao Luca ho due domande la prima se preferisci coppa o salame mi metti in crisi questa domanda non saprei perché io amo sia la coppa che il salame non guai a voi a chi pensa dei doppi sensi strani ma forse tra i due preferisco la coppa ti dirò e la seconda riguarda la lettura dei grafici bene torniamo seri ho notato in alcuni grafici dell'azionario che tra una candela e l'altra ci può essere un gap perché può succedere anche con le cripto allora no con le cripto no il gap in sostanza è causato dal fatto che i mercati azionari aprono e chiudono nel senso non sono 24 ore al giorno 7 giorni su 7 ma magari il mercato americano i suoi orari e il mercato italiano i suoi orari quindi stanotte ad esempio non è che puoi andare a comprare azioni del mercato italiano perché è chiuso e se chiude un prezzo e riapre a un altro ci può essere appunto questo gap non lo so è un vuoto appunto tra chiusura e apertura è una cosa completamente fisiologica succede sì con come si chiama il future della CME se tu vai a vedere il grafico di bitcoin sul future della CME che è questo come puoi ben notare ci sono parecchi gap proprio perché ad esempio qua questa candela se leggi sotto c'è scritto 14 maggio e questa qua 17 maggio perché questo era weekend dal weekend è arrivato da questo prezzo a questo lui ha riaperto lunedì qua e c'è questo gap tutto lì poi ci sono le peggio teorie sui gap quelle lasciale lì dove sono perché non hanno nessun fondamento logico ci si può ancora abbonare con prime ma certo che sì ma certo che si può con amazon prime avete l'abbonamento al mio canale twitch gratuito per me è una piccola donazione e mi fate davvero molto piacere se lo fate per voi non costa niente per me è una piccola donazione agosto saranno 50 anni che è stata introdotta la moneta fiat wow tanti auguri moneta fiat nel frattempo quanto ti sei svalutata parecchio ciao luca visto che sei un investitore a tutto tondo secondo te c'è correlazione tra mercato cripto e mercati tradizionali ci sono opinioni contrastanti guarda secondo me c'è ancora una discreta correlazione ma è dovuta al fatto che c'è una tendenza di fondo che è quella investire o non investire che coinvolge un po' tutti gli asset ok poi se tu ci fai caso in alcuni periodi storici si va a cercare la correlazione bitcoin oro in altri bitcoin sp500 in altri bitcoin e l'indice del dollaro che dice quanto è forte il dollaro cioè c'è sempre questa ricerca smaniosa della correlazione quando in realtà secondo me il fatto che ci sia correlazione è una cosa un po' temporanea che è destinata con la maturazione di questo mercato a esserci sempre meno tra l'altro c'è uno dei miei preferiti di aspettate di siti di analisi on chain che si chiama into the block che tra le varie cose aspettate che ve lo mostro dovrebbe essere adesso qua ci sono un sacco di voci capital markets insights da qualche parte eccolo qua eccolo qua correlazione correlazione a 30 giorni tra le cripto e gli asset tradizionali allora bitcoin nell'ultimo beh negli ultimi giorni è decorrelato con tutto perché bitcoin è dampato e il resto dei mercati sono saliti cioè è un non lo so secondo me io non la considero personalmente la correlazione né dal punto di vista operativo né dal punto di vista di portafoglio anzi bitcoin e le cripto per me sono tra i primi asset a essere tra i più decorrelati a quelli all'azionario al mondo azionario cioè oltre alle commodity quindi materie prime metalli preziosi bitcoin e le altre cripto per me sono un esenti da questa correlazione ecco le reputo una fetta decorrelata dall'azionario e nonostante in alcuni periodi ripeto c'è correlazione non va generalizzata ecco poi 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 torniamo seri ci dici qualcosa su ust sembra stabile non ho capito come fanno a garantire il 20% fisso ok per tenerlo fisso sulle fluttuazioni ma è altino rispetto al resto del mercato stable allora ust per adesso ha superato gli stress test a cui è stato sottoposto e alcuni sono stati molto pesanti perché guardate cosa è successo allora c'è il rischio di bank run no? che è quella cosa che è successa con iron ad esempio il fatto che tutti escono come se succede in banca cioè se tutti vanno a prelevare i contanti dalle banche cosa pensate che succeda? collassa tutto quanto è il rischio principale no? che sta sotto a questi protocolli basati su signoraggio un po' e come vedete terra ha resistito a un paio di depeg importanti e tra l'altro l'ultimo se non erro era questo il 24 di maggio il suo collaterale è luna come sapete e il 24 di maggio eccolo qua tac in realtà non era proprio il 24 di maggio era quel periodo lì comunque c'è stato un dump di luna che ha perso il 60% in pochi giorni e quello è stato un po' come dire c'era stato un po' di panico ecco su UST e molti hanno sono usciti da verso altre stable coin comunque il meccanismo di terra luna e quant'altro lo ne parleremo bene in un video dedicato perché ho deciso di farlo ho deciso di farlo perché io sono molto bullish personalmente sull'ecosistema a terra sul mondo che ruota intorno a terra poi allora è un piacere riuscire a seguire una tua live ho iniziato da poco nel mondo cripto e da quando ti seguo si è completamente ribaltata la situazione quindi mi sento in debito ma mi fa piacere non sentirti assolutamente in debito volevo chiederti che ne pensi di HNT a Helium giusto? e Mir sto cercando di costruire un portafoglio solido ma con un 10% speculativo diviso tra trading, gem e DeFi speculativa questo è ragionare ascoltate prendete esempio un portafoglio con un 10% speculativo ci sta è comunque una parte importante però è contenuta e una parte dello speculativo è gemme quindi gambling e DeFi speculativa quindi semi gambling questo è risk management comunque a tal proposito come vedi Banni e MDX non sono male soprattutto Banni mi sa che la lascerò appena possibile anche se mi piace farmarci BNB per mediare il rischio allora Banni non ho capito se detieni il token Banni cosa che sinceramente non farei perché ha un altro di quei token farm and dump e MDX stessa cosa io non detterrei mai il token entrambe le piattaforme invece ci stanno se incluse in quello poi per quanto riguarda la DeFi speculativa vi ho fatto vedere MyFinance che sono tutte adesso su MyFinance sono tutte su Polygon le principali c'è questa poi c'è Adamant che è un'altra DeFi abbastanza mid high risk perché non credo che sia stato editata addirittura è un auto compound su Polygon e poi quelle che vi ho fatto vedere oggi alla fine un po' di roba c'è qua vabbè adesso mi impazzisce tutto lasciamo stare e comunque 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 ecco HNT non l'ho ancora capito bene devo capirlo meglio cioè a primo così di primo acchito non è che mi abbia convinto granché quella rete che vuol creare devi mettere il patacchino lì che fa d'antenna non è che mi abbia convinto troppo ecco devo approfondire di più però ripeto mentre Mir per me è ottima cioè nel senso è ottima la piattaforma è ottima la tokenomics di Mirror secondo me è migliorabile però approfondiremo meglio nel video su su terra perché altrimenti c'è da fare tutto lo spiegone su come funziona Mirror e quant'altro beh Mirror la puoi anche mettere in staking con un ottimo IPY quindi quello sicuramente fa festeggeremo con un ritorno bull di BTC tu lo sai tu lo sai ciao Luca sto facendo un auto etf su blockchain alternative grande come l'hai fatto ti interessa qualche token sia eccomi ecco assolutamente sì soprattutto adesso che c'è un bel depreciamento è il momento ideale per andare a sgraffignare qualcosa e nel frattempo i miner americani si stanno sfregando le mani e direi proprio di sì perché insomma c'è molta meno competizione ma non durerà fidati non durerà ti volevo chiedere se non sia il caso di fare un bel tutorial su come iniziare i wallet su come utilizzare i wallet Lightning Network per i micropagamenti in Bitcoin bell'idea ne avevo fatto qualcuno in passato adesso non so com'è lo stato dell'arte sui wallet Lightning Network forse sono cambiati devo aggiornarmi i miner si stanno solo spostando a settembre e riparteranno alla grande d'accordissimo ma anche prima di settembre non vanno in vacanza i miner anzi con un'opportunità del genere rientrano dalle vacanze per venire a minare ai massimali ciao Luke io avrei intenzione di fare un pack acquistando direttamente le crypto da trust wallet e lasciarli lì tu dici che è una buona idea perché no però attenzione perché acquistare crypto da trust wallet cos'è c'è mica solo quelle della BSC però anzi se le tieni in un wallet ben venga occhio alla sicurezza mi raccomando ciao miglior crypto attuale per investire 20-30 euro sto entrando adesso in questo mondo mi sa che ti conviene studiare un po' amico mio perché sento d'or di gambling in questa tua affermazione quindi non ti rispondo volutamente perché non ti voglio dire qua vai qua vai là fai là perché devi partire dal comprendere cosa vuol dire investire cosa sono le crypto come funzionano e quant'altro ti risponderei bitcoin così alla cieca perché comunque bisogna un po' partire da lì ecco però non ti dirò una shitcoin sappilo poi 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 ma quindi può aver senso iniziare a minare e guarda iniziare a minare ha senso se lo si fa comunque a un livello di un certo tipo andare a comprare l'ASIC attaccarlo alla presa di casa probabilmente non è comunque conveniente è conveniente se si ha una pannellatura solare accesso a fonti energetiche a basso costo comunque un mining rig di una certa dimensione cioè tutto ovviamente scalandolo diventa più efficiente perché magari ci si approvvigiona anche a costi minori cioè è tutta una cosa da contestualizzare non è un gioco minare ormai non è più secondo me alla portata del consumatore minare è un'industria di fatto poi dove siamo finiti ciao Luca puoi dirmi qualcosa su Ripple assolutamente sì guarda Ripple non mi piace sinceramente mi trattengo non dico shitcoin punto ma motivo la mia il mio pensiero Ripple a me non è mai piaciuta perché innanzitutto è centralizzata dicevano che era la cripto delle banche ma poi le banche non la vogliono ha avuto delle erogne con la SEC perché gli hanno detto che vendevano security in realtà non potevano e non si è ancora capito bene l'esito di questa causa in causa addirittura con la SEC i fondatori hanno dampato in continuazione token a mercato la tokenomics è pessima use case non ne vedo e quindi per me è assolutamente un no dicono eh sì i pagamenti ma che use case è cioè tutte le cripto hanno quello come use case perché dovrei usare Ripple non no per me è no centralizzata è inutile assolutamente no poi ciao qual è al momento il modo migliore per far rendere dei bitcoin wrapped allora guarda un modo semplice che ho visto l'altro giorno è su Binance ho visto che tra la DeFi lo staking DeFi tac tac hanno riaggiunto cioè hanno riaggiunto lo staking DeFi il che non è affatto male aspettate che lo ritroviamo qua non so mai dov'è eh dov'è qua dentro da qualche parte eccolo qua staking DeFi allora 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 vediamo se c'è ancora adesso faccio la figuraccia eccolo qua tramite Venus dal 7,49% di di APY non è affatto male per bitcoin altrimenti avrap però hai detto è WBTC altrimenti c'è il pool dunque tra poco su Polygon ciao Polygon Iron Finance pace all'anima sua riposa in pace era Polygon Curve volevo andarlo a prendere e tatatata dove sei qua eccolo qua tra poco vedete il primo di luglio arriva il liquidity mining quindi potrebbe essere interessante sia qua che sul TriCrypto sul TriCrypto c'è la Impermanent Loss quindi c'è da fare attenzione sul Curve normale su Ethereum però non so se ti viene voglia di farlo c'è anche lì il pool con dentro WBTC c'è anche il TriCrypto che frutta abbastanza bene o altrimenti fammi recuperare eccolo qua RenBTC WBTC no ma non rende granché non rende per niente bene di altri c'è questo che però non è il WBTC no ti direi di no andiamo a vedere anche su Yearn giusto per completezza che Yearn ha dentro anche i pool di Curve e magari fa un po' fa degli APY più interessanti WBTC 0.83 no direi di no non non è particolarmente interessante e quindi mi viene da pensare che su Ethereum non ci sono opportunità valide su Curve di Polygon c'è il TriCrypto e il il pool con i due corrispondenti di Bitcoin RenBTC e WBTC o altrimenti sulla BSC abbiamo questo qua al 7-5% altrimenti ci sono le le Cefai Ledna ad esempio dal 6% che non è affatto male fino a 2 Bitcoin adesso avete visto che le Cefai si sono un po' ridimensionate ma questo è normale cioè in una situazione di mercato contratta non si può pretendere cioè è più rischioso che uno continui a dare dei tassi molto alti se non ha la liquidità alle spalle attenzione perché è facile lamentarsi o hanno abbassato i tassi che barba che noia però serve a contenere il rischio poi 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 allora adesso c'è da andare a dare un'occhiatina ai grafici perché vedo che il tempo scorre dunque prendiamo ancora un paio di domande quindi matica ha già problemi ma non è che ha problemi è solo che è molto molto satura guarda ti faccio vedere ad esempio dunque lo scan com'è che si chiamava polygon scan eccolo qua tac ogni volta che scrivo polygon adesso mi compare polygon iron devo cancellarlo dalla cronologia perché altrimenti è un memento mori terribile allora network utilization chart eccolo qui bababam adesso in questi giorni si è un po' abbassata però era arrivata quasi a saturazione 27 giù e il weekend si è abbassato un po' vediamo sono curioso di vedere oggi secondo me visto che prima mi laggava un attimino potrebbe essere ancora satura comunque non è un problema non è che salta il network non succede niente momento grafici momento grafici l'edna ha abbassato anche lui i tassi di interesse oggi 9% su USDC è vero è vero soprattutto sulle stable sono stati abbassati da BlockFi è arrivato al 7 e mezzo se non erro su USDT l'edna al 9 che comunque credo sia ancora il più alto e poi c'è tipo Crypto.com quelli lì che hanno comunque anche la parte exchange e quant'altro l'han tenuta sempre penso tra le più alte se non erro Crypto.com al momento è quello che ce l'ha più alta aspettate fatemi vedere facciamo un check velocissimo che non voglio dirvi stupidaggini products eccolo qua earn vediamo 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 USDC fino al 14% sì però se metti in staking un billion di CRO con 4000 cro per 3 mesi 12% non male altrimenti 10% è molto bene Crypto.com come staking dovremmo fare magari un altro video comparativo sulle cefai alla luce di questi cambi di tassi di interesse potremmo farlo sì bella idea bella idea dai vabbè basta pensare a voce alta è il momento di guardare un po' di grafici allora Bitcoin è un grafico importantissimo questo da seguire perché sta facendo una cosa che mi piace ve l'ho già anticipato all'inizio del video ciò che mi piace di Bitcoin che ha fatto ha creato questa sacca di domanda soprattutto sotto i 30.000 perché sotto i 30.000 ci è arrivato due volte e due volte ha reagito bene questa seconda volta è stata meno impulsiva la reazione però sempre bella perché guardate ha pescato pam respinta poi di nuovo il dump questa candela è stata bruttissima la candela del 26 perché sembrava un bearish retest di questi vedete questo doppio livello era un doppio minimo poi violato e sembrava un bearish retest con engulfing pam poi di nuovo l'offerta ha tentato il follow up ma non ce l'ha fatta perché la domanda l'ha frenata abbiamo assorbito siamo ritornati ad attaccare esattamente questo livello che adesso è un livello chiave 34.700 ok questo doppio minimo qua abbiamo toccato qua adesso funge da resistenza quindi questo è un livello da non sottovalutare soprattutto se consideriamo andiamo a fare uno zoom così si vede meglio se consideriamo il fatto che questo clusterino qua questo la candela del 20 giugno clusterino perché durante un downtrend c'è una candela opposta quella candela per me io la chiamo cluster ma alla fine può avere tanti nomi in sostanza diventa un livello di prezzo di riferimento per la price action futura io lo considero molto e quindi guardate infatti cosa ha fatto allora tac innanzitutto dopo il giorno dopo dump e ridump quindi è stata l'origine di un dump del 20% che non sembra ma è del 20% anch'io non ho detto cosa sarà un 10% massimo il 20% dal top al bottom da lì poi vedete tac abbiamo avuto l'assorbimento 1 siamo ritornati esattamente qui i seller hanno difeso le loro posizioni ribassiste ridumpando candela questa qua brutta che vi dicevo la domanda di nuovo ha fatto un higher low questo è importante vederlo tac tac higher low sulla shadow e ha ripompato su fino a riattaccare questo stesso livello quindi abbiamo un pool di offerta alla fine che è circoscritto esattamente a quest'area tac tra i 34006 e i 35005 questa è l'area in cui si trova un pool di offerta tac 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 quindi detto in parole povere se noi ci andiamo a riprendere questo pool di offerta le conseguenze non sono da trascurare perché questa candela di dump è stata una candela a volumi molto alti il che significa che si sono aperte parecchie posizioni e direi soprattutto short visto che la candela è piena e rossa quindi se noi andiamo a prendere tutti questi short e li andiamo a mettere in perdita perché il prezzo sale qua sopra e si inizia a creare quella sacca di possibile domanda esplosiva data dalla chiusura delle loro posizioni i loro stop loss e le loro liquidazioni probabilmente in parte soprattutto questi super intrappolati sono già stati squizzati e liquidati a dovere nei giorni scorsi ma visto che c'è stato anche questo follow up di short quest'altra candela io mi aspetto che ci sia ancora una pressione short notevole e quindi se noi ci andiamo a prendere i loro stop loss tipo superando l'origine del dump andando su ripeto è una forza elastica che si potrebbe andare a scatenare quindi occhio perché potrebbe essere un primo segno per andare quantomeno a riprovare ad attaccare i 40.000 poi da lì in poi si decide l'eventuale propagazione più più in ampio su ampio raggio perché qua è ancora nel breve stiamo parlando di qualcosa di breve breve cioè il range qui dentro se poi andiamo a uscire da questo range e beh allora lì ci propaghiamo se usciamo dal range con sufficiente spinta e andiamo a riprenderci 50.000 ve lo dico come se fosse roba da niente ma è ritorniamo bullish addirittura perché andiamo a riassorbire è lo stesso discorso che abbiamo fatto poco fa su larga scala tutti questi ce li mangiamo mentre se andiamo poi soltanto a superare qui senza sufficiente forza siamo in zona short di copertura come ben sapete ok perché qua c'è la mia area short di copertura perché se andiamo a salire qua sopra per andare a fare soltanto un lower high cosa che si vede bene soprattutto su time frame settimanale guardate tac immaginatevi che torniamo da queste parti bearish retest e riscendiamo anche sul time frame mensile volendo lo si può vedere perché abbiamo dampone così follow up di offerta storno verde che prima o poi ci vuole lower high e poi prosecuzione ribassista questo è il bear case che per il momento è quello più probabile perché la struttura è bearish però c'è questa micro price action che mi sta piacendo quindi stiamo un po' a vedere questa è la situazione su bitcoin andiamo a vedere il resto in breve che cosa abbiamo di bello la dominance che attenzione flette flessione della dominance e andiamo a vedere anche curioso eccolo qua total market cap guardate anche la total market cap perché questa è eloquente se noi ritorniamo qui dentro vedete abbiamo fatto un falso breakdown da questa da questo cluster qui se noi ritorniamo adesso qui dentro bene 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 e quindi attenzione perché potremmo ritornare appunto all'interno di questo blocco e andare perché no ad attaccare poi il range high si vanno ad aprire tanti altri scenari diversi che non sono appunto il rimanere qui dentro che era la fase bearish di perdere un blocco alla volta e continuare la discesa vediamo dunque ci sono altcoin bullish dunque noi stavamo seguendo dov'è bnb bnb eh guarda non è neanche malaccio però deve dimostrare almeno salire sopra allo 0,009 romperlo e andare a fare appunto a confermare il fatto che sta triangolando così magari poi si rivela un'accumulazione per adesso ancora presto non cerco ancora posizioni in altcoin sono ancora cerbe mentre ethereum che ethereum oggi mostra i muscoli 6,5% su un pool di domanda tra l'altro pazzesco pazzesco vediamo qua ah guarda che roba guarda che roba proprio su questo cluster propagato tac adesso si mostra domanda vediamo la chiusura settimanale innanzitutto perché se facciamo una chiusura settimanale engulfing bullish potrebbe già essere un segno attenzione soprattutto a non cadere trappola cadere vittima della bull trap perché questa è solo una candela c'è ancora tutto da dimostrare poi altre altcoin cosa abbiamo di kusama che ha fatto un altro colpo di reni anche lei però non benissimo ancora c'è una struttura pessima cos'altro c'è cos'altro c'è dunque di coin cosa c'era solana 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 è una di quelle ancora più bullish cioè guarda tac e tac un po' come bnb ma più bullish perché tutto sommato cioè se ci fai caso se guardi il macro è bullish solana non ha ancora dato adito allo svilupparsi di strutture ribassiste quindi bene bene solana bene dai bitcoin facci questo regalo non dumpare proprio ora facci sto regalo di recuperare l'origine del dump di questo mini dump e poi propagare sempre di più fai il bravo fai il bravo cosa ne pensi di shiba inu so che ci sono buone probabilità che esca lo shiba swap lo shiba swap non vale niente shiba inu non vale niente no scherzo a parte tutto è una meme coin ragazzi prendetela per quello che è e non per i suoi fondamentali non ci sono fondamentali è un gioco shiba inu ok guarderesti polygon molto volentieri andiamolo a vedere il nostro matic anche lui è uno che guardiamo spesso matic non ha ancora dato quel colpo di reni attenzione perché è in fase che sembra un triangolo ribassista e quindi se lo va a rompere a ribasso non ci siamo non ci siamo no 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 amici bene un'ora è passata quasi in realtà quindi io vi saluto vi ringrazio innanzitutto per avermi seguito siete sempre i più sul pezzo di tutti perché insomma anche in bear market essere qui vuol dire che siete smart money come si suol dire cioè adesso molti sono scappati quelli che cercavano i guadagni facili sono scappati chi è rimasto ha una marcia in più è evidente e noi siamo qua per andare a sfruttare il fatto che scappa un po' di feccia no un po' di di fomo e sono qua poi le situazioni in cui ci si studia il portafoglio si fa si struttura l'investimento si ragiona ok e sul lungo termine sicuramente questo giocherà a vantaggio di chi lo fa e a svantaggio di chi poi arriva quando di nuovo pomperemo io già me lo vedo che adesso continua il bear market e scappano tutti poi ritorniamo ai massimi arrivano ma secondo te è tardi se inizio un pack adesso la classica domanda quando saremo a 80.000 e io dirò eh guarda non è mai tardi però era meglio se ti svegliavi prima basta con questa io vi lascio mi raccomando attenzione alla defi alto rischio io ve l'ho condiviso vi butto sempre lì qualche farm qualche spunto ma usate sempre la testa oggi abbiamo visto anche un esempio di gambling consapevole come lo dico io dai vostri commenti speriamo che la Francia perda mi unisco anch'io a questo a questa cosa calcistica ovviamente ma solo puro tifo calcistico e vi faccio un carissimo saluto e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti